Un investimento significativo della Juventus per Milan Skriniar sarà fatto? Discutiamone da ora. Milan Skriniar, che ha giocato nell'Inter da quando è andato al PSG, non ha avuto molte opportunità, potrebbe arrivare alla Juventus a causa del grave infortunio di Bremer. Ma questo richiederà alla Juventus un investimento significativo, soprattutto in termini di stipendio. Vedi, Skriniar guadagna 10 milioni di euro a stagione, uno stipendio che la Juventus non sarebbe disposta a pagare. Almeno questa è la mia opinione. Tuttavia, Skriniar è un buon difensore e ha avuto momenti importanti all'Inter. Preferisco il suo arrivo rispetto a quello di Kivior, che è anche un'alternativa. Ma prima di tutto, Skriniar dovrebbe accettare di ridurre il suo stipendio, cosa che credo farebbe, visto che al PSG gioca poco.